Esigo sapere perché ha messo un nuovo annuncio per un dottore quando quel posto è già occupato. Non volevo offenderla, signorina Quinn. Dottor, quindi? È solo una questione di opinioni. Quali opinioni? Le ha già chieste ai miei pazienti. Non sapevo che lei avesse dei pazienti. Jake Sleaker, Emily Donovan, Robert E. Credo che dovremmo cercare di calmarci. Io sono calmissima ed esigo una risposta. Aiuto! Dottor Mike! La mamma! Un serpente all'ammorso! Mi serve un cattino di acqua fredda e delle coperte. Colleen va a prendere un bicchiere di sidro e... Brian, tu tieni la mano di tua madre per me. Che cosa fate tutti qui? È stata morsa da un serpente assonagli. Ah, sì? Ma vedrà che si riprenderà. Lei dice... Aiuta tua madre a bere questo. Ecco, mamma. Avanti, devi bere questo. Coraggio, mamma. Mamma! Dottor Mike. Charlotte. Una cosa. Tutto quello che vuole. Per favore, per favore, per favore, abbia cura dei miei figli. Charlotte, non io. Voglio dire che... Insomma, io non so niente sui bambini, su come educarli. Non dicono niente in proposito alla facoltà di medicina. E poi vedrà che starà bene. La prego, me lo prometta. Me lo prometta, Mike. Glielo prometto. Brian... 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.